Ciao a tutti, eccomi con un altro piatto tirolese, l'i-spetzl. Spero di aver pronunciato bene. Per farli ci vuole questo attrezzo, altrimenti non riuscite ad avere lo stesso risultato. C'è infatti chi usa lo schiacciapatate, ma non è la stessa cosa. Li farò con gli spinaci, perché poi ce ne sono anche bianchi. Poi ci vuole un uovo fresco, la farina di farro, possibilmente, altrimenti usate la zero. E gli altri ingredienti che vi ho messo in descrizione. Bene, ora vado a tritare gli spinaci, li farò con il mixer ad immersione, ma voi potete usare anche un frullatore. Per tritare meglio posso anche aggiungere un goccino d'acqua, così mi verranno più fini, tipo crema debbono venire. Ok, ora li ho messi dentro la ciotola, ci aggiungo per prima cosa l'uovo e vado a sbatterlo con una forchetta. Volendo potete anche fare tutto nel robot di cucina, però io preferisco fare così. Questa ricetta è di... A parte che è una ricetta originale tirolese, però io l'ho ripresa dal blog di Stefano Cavada, che è uno chef altoadesino che seguo. Quindi ho ripreso gli ingredienti, ho ripreso come farli, solo per lui mette tutto appunto nel robot di cucina. Io preferisco fare così, direttamente nella ciotola. Ok, ora ci butto la farina, ho messo la noce moscata, avete visto la grattugiata, e il sale, ed ora ci metto l'acqua, ma non la metto tutta, perché voglio vedere prima la consistenza com'è, perché poi dipende molto dalla farina che usate. Ne metto un altro goccino e continuo ad impastare. Praticamente questi sono dei gnocchetti, gnocchetti piccolini, infatti appunto con quell'attrezzo che avete visto. fatti però con farina di farro, però anche con la zero va bene lo stesso, però la particolarità è proprio la farina di farro. Metto un altro goccino di acqua, mi regolo, vedete, alla fine non l'ho messa tutta, quindi le dosi che vi ho messo vi regolate, perché si deve venire morbidissimo, ma non liquido. Questa consistenza qui io direi che va bene. Nel frattempo ho portato ad ebollizione l'acqua, ho appoggiato l'attrezzo sopra, scusate non so se ha un nome specifico, chiamiamolo attrezzo. L'ho appoggiato sulla pentola, alzo un pochino per farvi vedere come escono, vedete? Ok, quindi basta andare avanti e indietro così, il composto sotto esce e si formano appunto quei caratteristici gnocchetti. Ok, li faccio in due volte, questa dose è presa poco e per due o tre persone. Poi li faccio bollire, ma un attimo, l'importante è che rialzi il bollore, ci metto anche un po' di sale, non molto, e poi li tiro fuori, perché questi poi vanno ripassati in padella e quindi la cottura finiscono di cuocere in padella. Ok, li tiro fuori così, volendo si possono anche surgelare, io delle volte li surgelo così sono pronti per saltarli in padella, poi vi dirò come. Ok, vedete, se vado un pochino più piano do modo di scendere di più all'impasto e magari i gnocchetti vengono leggermente più lunghi, quindi più grandicelli. Ecco qua, finisco. Adesso io qui le ho riprese da sola, ho messo l'impostazione cellulare, ma non è che posso farvi vedere, però vedete che non è difficile. Bene. In Alto Adige va molto questo piatto, sia quelli di spinaci che bianco, sempre con la farina di farro, saltati in padella con panna, con lo speck, questi io li farò col prosciutto cotto. Ecco qua, questi sono gli ultimi, vedete come sono? Prendono questa forma particolare, un po' irregolari e piccolini. Ok, io se li surgelo ci metto un goccino d'olio, ora questi non sono scolati bene, ma tanto un po' li vado a cuocere. Eccoli qua, vedete? Bene. Ora ho preparato una padella, ho messo il prosciutto cotto e la panna, faccio scaldare la panna, se è troppo densa ci aggiungo un pochino di latte, perché ci vorrebbe la panna, quella un po' liquida proprio dell'Alto Adige. Ci metto un pochino di pepe, pepe macinato, faccio appena scaldare e poi ci butto dentro una parte degli gnocchetti che ho fatto, quindi farò soltanto un piatto, quindi queste porzioni per due persone vanno benissimo, anche tre. Io non ho messo molta panna, perché questi andrebbero proprio affogati nella panna. Se non amate la panna, usate il burro, una spolverizzata di parmigiano ed eccoli qua. Non ci resta che assaggiarli. Bellissimi, buoni, sono veramente squisiti. Bene amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video e a iscrivervi al mio canale. Come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie.